sta quasi per finire si vabbè ma ecco mo segnano siamo stati 90 minuti a guardarla 0 a 0 a buttano dentro un uo a 2 minuti dalla fine no è veramente ciao ragazzi ben ritrovati di Lazio Nizza ragazzi miei a parte il fatto che comunque col pareggio andrebbe a 10 punti ha giocato tutte e due le volte con Nizza che è secondo a 7 e poi la terza mi pare che stia a 3-4 eccolo ha fatto davvero ragazzi ha fatto davvero ok Lazio ha punteggio pieno ha segnato De Vrij incredibile siamo stati 90 anzi 91 minuti a guardarla partita e a dire mamma mia perché nel frattempo comunque abbiamo anche diciamolo registrato un video che uscirà domani un video che uscirà domani rivediamolo in diretta calcio d'angolo la scapo è un autogore è un autogore è un autogore infatti sì doppia deviazione sì 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 aspetta rivediamolo bene il colpo resta di parole è una deviazione del giocatore del Nizza che la manda in porta Dante no no è a 20 no è un altro spalla del 20 non so chi sia spalla del 20 non si capisce per chi ne ha capito il gioco di parole Dante a 20 non so se si capisce vabbè quindi Lazio a punteggio pieno praticamente è passata ma è passata prima a sto punto sì è passata prima a sto punto 12 punti e il Nizza va a 6 Nizza che rimane a 6 se non mi sbaglio rimane a 6 prima in classifica a questo punto la domanda la mangia la domanda sorge spontaneo ancora fame per quello ho detto mangia ho stavo a pensare l'ex allenatore Denis Mangia che non so se allena più ma penso che fa il commentatore su Rai su Rai su Rai su Rai mamma mia stasera la domanda sorge spontanea qual è sta domanda la Lazio può vincere l'Europa League anzi l'Europa Fic chi lo sa chi lo sa ce lo potrà dire solo il tempo sicuro ha fatto il Milan non mi sta convincendo assolutamente convincendo l'Everton sta con una scarpina ciavatta proprio l'Arsenal assolutamente non mi sembra chi lo sa scusate è la favorita è stata data per favorita dai bookmaker assolutamente è appena finita la Lazio finita in questo momento ma poi bisogna vedere chi scende dalla Champions perché bisogna infatti per come siamo messi attualmente potrebbe scendere qualche squadretta abbastanza forte dobbiamo aspettare ancora due partite però secondo me la Lazio zitta zitta col turnover anche stasera ha cambiato parecchio perché insomma ci tiene al campionato Danica Isedo davanti quindi hanno riposato immobile soprattutto ma anche Milinkovic Savic insomma e chi altro esso sia quindi col minimo sforzo il massimo rendimento oggi la Lazio diciamoci la verità anche in pareggio che sarebbe andato benissimo cambiato assolutamente eppure sono riusciti a vincere secondo me se la possono giocare alla pari con tutti dovessero beccare Arsenal dovessero beccare no 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 se la giocherebbero perché comunque se la potrebbero cioè a pieno regime con la squadra una bella squadra una bella squadra una bella squadra ma soprattutto giocano bene è quello io in Europa League sinceramente ci metterei una firma anziché arriva in finale di Champions se perde meglio vincere in Europa League tutta la vita cioè senza ombra di dubbio vabbè non voglio di caro ma voglio che che arrivi in Europa League no preferisco passare i gironi e poi uscire inesorabilmente agli ottavi ai quarti non me ne può fregare di meno voglio vedere la Roma che va che stai a dire ma che ne so che stai a dire mi sono inventato qualcosa perché che ho detto di vabbè se ti sei capito da solo ti sei capito cioè hai fatto un giro di parole per dire niente non ho detto niente non era fuffa volevo dire che anche se la Roma dovesse passare i gironi arriva agli ottavi uscendo agli ottavi non andrebbe più in Europa League perché solo qualificandosi da terza hanno detto cose sensate certo cosa più sensata va bene ci fate sapere che è il sonno ci fate sapere che cosa pensate nei commenti vi piace a Lazio a noi no perché siamo romanissimi va bene lo stesso vi piace commentate condividete iscrivete al canale sondaggi in alto a destra ci vediamo alla prossima con un nuovo video che è meglio il sonno fa brutti scherzi bella ciao